Musica Weeey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi da daaa lo state vedendo di già ragazzi Nuovissimo freschissimo bellissimo altissimo e purissimo codice per what the hen ragazzi Appena arrivato appena giunto ringrazio ovviamente EX Sports per avermelo dato proprio zam al volo Così ragazzi con questo codice andremo a sbloccare 15 sederocchi Il robot nello slot numero 2 della fazione dei sederbots Quello che fa così Quello che fa così praticamente vi ricordo che è un combattente che ha come abilità principale Quella di stordire i nemici durante la battaglia Cosa molto molto importante da non sottovalutare Perché vi ricordo che stordendo i nemici li bloccherete per qualche secondo E non potranno fare assolutamente nulla Allora ragazzi lo andiamo a vedere come vedete congratulazioni Ne ve ne sblocca 15 ve ne da 15 Andiamo un attimo a vederlo e poi vi do il codice Come seconda abilità a livello 20 ha invece esecuzione Cioè secca i nemici con meno del 30% di punti salute Va bene ragazzi non voglio cincischiare ulteriormente Vi voglio solo ricordare di lasciare un super like per questo video Per tutti questi aggiornamenti per queste live che sto portando Di What The Hand Bel pollicione in su Fatemi vedere quanti ve ne scaricate Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati Sulle live e sui video Va bene il codice ragazzi è Va bene ragazzi io voglio ringraziarvi tantissimo per essere rimasti qua Sono molto felice che mi stiate seguendo E sono molto felice di portare questo What The Hand Noi ci portiamo Noi ci portiamo presto No Noi ci vediamo presto al prossimo video Ciao Ciao